Oggi lei si è incatenato qui in Piazza della Repubblica a Mazzara del Vallo, per quale motivo? Perché mio fratello si trova in questo momento a Roma e non vogliono operarlo all'ospedale, al Policlinico Gemelli. Non vogliono operarlo perché ci potrebbe essere il rischio che mio fratello sia positivo, nonostante abbia fatto il test molecolare che conferma la negatività di mio fratello. Il Policlinico ha questa regola e allora hanno rinviato l'operazione che doveva essere oggi, l'operazione di mio fratello, l'hanno rinviata a data da destinarsi. Mio fratello ieri si è ricoverato, lo hanno ricoverato e hanno fatto tutti gli analisi, gli accertamenti, per poi fare l'operazione oggi e in pratica cosa è successo? Tra questi accertamenti c'è il tampone rapido, di cui mio fratello è risultato in primis positivo, poi hanno fatto quello molecolare per confermare la negatività o la positività, il mio fratello è uscito negativo, nonostante questo mio fratello non può essere operato. L'operazione è stata posticipata a data da destinarsi, forse tra 15 giorni mi hanno detto, ma mio fratello 15 giorni non può stare, mio fratello ha un tumore alla tiroide, è un tumore grave, il più alto stadio che si possa avere di tumore alla tiroide e deve essere operato, deve essere operato di urgenza. A mio fratello hanno detto di scendere, che poi verrà chiamato da loro, quindi fare sia il viaggio di andata per venire qui in Sicilia, sia il viaggio per andare di nuovo a Roma ad essere operato, con il rischio di prendere realmente il coronavirus e di non essere più operato. Quindi mio fratello rimane a Roma, mio fratello da Roma non si muove, mio fratello, ripeto, deve essere operato al policlinico, come era stata destinata la data di urgenza per oggi, quantomeno che sia fatto qualcosa il prima possibile, non possono passare 15 giorni, non è possibile, non può essere. Alte prestazioni, dimensioni ridotte e risultati immediati, con gli analizzatori della linea veterinaria, realizzata e prodotta da Gesan Production e distribuita da Gesan.com. Grazie all'esperienza maturata dal gruppo Gesan nel settore diagnostico, in oltre 30 anni di attività, gli analizzatori della linea umana sono stati ottimizzati per l'utilizzo in ambito veterinario, garantendo al professionista la possibilità di conoscere rapidamente lo stato di salute dell'animale in tempi compatibili con quelli di una visita specialistica. Top di gamma della linea veterinaria Gesan Production è l'analizzatore di chimica clinica Piccolo ChemVet, dotato di reagenti dedicati per analisi di routine. La linea veterinaria comprende anche gli analizzatori di ematologia Hemovet 3Dif e Hemovet 5Dif, a 3 e a 5 popolazioni. L'analizzatore di elettroliti LightPet Plus e il coagulometro ClotPet. Con l'ausilio di moderni generatori di ozono, Mister Pulito sanifica e deodora gli ambienti in minor tempo e senza alcun rischio per l'uomo o l'ambiente. Igenizza, distrugge virus, batteri e spore, procedure Covid-19, elimina i cattivi odori. Mister Pulito è il partner ideale per la sanificazione, la disinfezione e la disinfestazione di spazi lavorativi, edifici aziendali o industriali. Contattaci per un preventivo gratuito allo 0923 90 80 99. Mister Pulito, Via Ludovico Ariosto 15, Mazzara del Vallo.